Caltanissetta, giovane lancio oggetti dalla finestra, intervento della polizia. Eventi natalizi, i commercianti chiamano il comune su programmi e iniziative. Incidenti stradali, in dieci mesi ne sono stati rilevati, 221 il dato riguarda l'ambito urbano ed è stato diffuso dalla questura di Caltanissetta. Bonus assistente familiare, istanza al comune entro il 14 dicembre, avviso riguardante i cittadini residenti a Caltanissetta, Delia, Resultano, Riesi, Santa Caterina, Villarmosa e Sommatino. Regione siciliana, i 12 assessori dell'Aggiunta, il presidente Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale, apriamo parlando di cronaca. A Caltanissetta, giovane lancio oggetti dalla finestra, l'intervento della polizia, i dettagli nel servizio, vediamo. Via Calabria, a Caltanissetta, poco dopo le 14 di oggi un giovane ha iniziato a discutere all'interno della propria abitazione, poi lancio di oggetti dalla finestra, prima un vaso con della terra che finisce mille pezzi di impatto sull'asfalto, poi alcune sedie. Una discussione, le parole che risuonano in tutto il quartiere, i vicini timidamente che si affacciano, chi dalle attività commerciali, chi dalle abitazioni, qualche studente che si attarda dall'uscita della scuola, accelera il passo e infine l'intervento di due volanti e la squadra mobile. Proprio grazie all'intervento della polizia è stato possibile placare gli animi e bloccare il traffico come azione di prevenzione per eventuali epiloghi. Il giovane uomo sulla Trentina pare essersi affidato agli agenti ed avere riconosciuto anche e di avere vissuto un momento particolarmente stressante, poi li ha seguiti di sua volontà per farsi aiutare dal personale sanitario. Lo stress colpisce 9 italiani su 10, sia adulti che bambini, e non sempre si riesce a riconoscere in tempo le cause per comprendere come affrontarlo. Tra le piattaforme online che possono dare un sostegno c'è Parent Smile, la prima piattaforma europea per il supporto medico e il benessere a domicilio di tutta la famiglia, offre consulenze utili anche attraverso un videoconsulto con un professionista specializzato, accuratamente selezionato. Ma come riconoscere lo stress? Ognuno di noi di fronte a un evento stressante di qualsiasi tipologia, in un primo momento ha delle reazioni che possono essere emotive, fisiologiche, comportamentali, cognitive, solo in una seconda fase, nella più parte dei casi, riesce a riequilibrarsi. In questo ci si può riconoscere, ci si può anche vedere alle reazioni emotive che possono essere tristezza, incapacità a godere di momenti piacevoli e gioiosi, nervosismo, incapacità anche a gestire e sopportare le frustrazioni. Circa l'85% degli italiani ha sofferto di disturbi legati allo stress. Farsi sostenere in un percorso che consenta di superare questa fase è la soluzione. E adesso parliamo degli eventi natalizi. I commercianti chiamano il Comune su programmi e iniziative. È l'ASCOM di Caltanissetta che attraverso una nota chiede all'amministrazione comunale quali siano i programmi e gli eventi previsti in città a poco più di un mese dalle festività natalizie. Giorni che si avvicinano e che, come ogni anno, vedono ripopolare temporaneamente le strade cittadine grazie ai molti nisseni che vivono e lavorano in altre città che rappresentano, per chi ha un'attività commerciale, un'opportunità di lavoro in più. Proprio i commercianti, guardando a realtà sia più piccole che più grandi di Caltanissetta, vorrebbero risposte in un momento in cui, dopo i due anni della pandemia e l'attuale crisi economica, scarseggiano le vendite. Nella nota richiamano il rischio e chiusura conseguente alla crisi attuale per molte aziende, con la ricaduta su posti di lavoro in meno. Oltre a chiedere notizie su eventi illuminari e natalizie, altra domanda che pongono all'amministrazione riguarda il coinvolgimento delle associazioni locali nelle iniziative e chiedono espressamente se saranno coinvolte realtà di altre città. Nessuna risposta intanto abbiamo ricevuto dall'assessore agli eventi Fabio Caracausi, che abbiamo contattato per la replica e restiamo attualmente in attesa. Incidenti stradali in dieci mesi ne sono stati rilevati 221. Il dato riguardante l'ambito urbano è stato diffuso dalla questura di Caltanissetta. Rilevati 221 sinistri stradali in ambito urbano, questo è il bilancio degli interventi eseguiti dai poliziotti delle volanti nel capologo Nisseno e nelle città di Gela e Niscemi, nell'arco di tempo che va da gennaio a ottobre di quest'anno, nel corso dei servizi di controllo del territorio. Un dato che fa riferimento ad incidenti che hanno coinvolto persone e mezzi e che, anche se ancora manca un mese e mezzo alla fine dell'anno, al momento è leggermente inferiore rispetto a quello dell'intero 2021 pari a 281. In ogni caso bisogna anche tenere conto del fatto che il numero indicato dei sinistri avvenuti nelle strade cittadine riguarda soltanto quelli rilevati dalla Polizia di Stato. Un bilancio quindi che sicuramente tende ad aumentare, aggiungendo anche quelli che hanno visto l'intervento delle altre forze di polizia. Tirare le somme serve anche ad analizzare e monitorare la situazione, così come si legge sui social della questura Nissena, ci mostra quanto siano pericolose le strade delle nostre città se non si guida con prudenza. La prevenzione infatti anche in questo caso assume un ruolo decisivo nella possibilità di diminuire il rischio di incidenti. Per tale motivo vengono dati anche dei consigli agli automobilisti sui corretti comportamenti da seguire al volante. La Polizia di Stato raccomanda quindi prudenza alla guida, si precisa ancora, rispetto dei limiti di velocità e attenzione alla segnaletica urbana, specie nelle intersezioni, nei passaggi pedonali e in prossimità di scuole, ospedali e uffici pubblici. Un pensionato nisseno di 77 anni è morto dopo un malore fulminante. L'uomo si trovava in una sala da barba in Corso Umberto, nel centro storico, quando all'improvviso avrebbe avvertito un dolore intenso al torace. Immediatamente veniva richiesto l'intervento di un'ambulanza del 118. Vani i tentativi di rianimarlo. L'uomo è deceduto a quanto pare per un arresto cardiocircolatorio. E cambiamo argomento. Save the Children. Bambini nati nel nisseno hanno 3,7 anni in meno di aspettativa di vita. Il dato emerge dalla presentazione della tredicesima edizione dell'Atlante dell'infanzia. È di 3,7 anni in meno l'aspettativa di vita di un bambino che nasce a Caltanissetta rispetto a uno che è nato a Firenze. Una differenza di quasi 4 anni tra nord e sud. Ma non è l'unico divario. Un bambino nato nel 2021 in provincia di Bolzano ha un'aspettativa di vita in buona salute di 67,2 anni. Mentre uno nato in Calabria di 54,2. Un gap di ben 12 anni. E tra le bambine del sud il divario aumenta ancora di più con una differenza di 15 anni. A lanciare l'allarme è Save the Children durante la presentazione della tredicesima edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio dal titolo Come stai. A pesare sulla salute e sul benessere psicologico dei minori sono povertà e disuguaglianze che si sono accentuate soprattutto dopo la pandemia. Secondo un'analisi di Coldiretti sulla base dei dati raccolti dall'Atlante, 600.000 bambini al 18 dei 15 anni hanno avuto bisogno di aiuto per bere il latte o mangiare. Un incremento del 12% in un anno. Questo a causa della povertà e dell'aumento dell'inflazione che ha messo in difficoltà le famiglie. Nonostante questo dato, la menza scolastica non è un servizio essenziale e gratuito per tutti i bambini. Save the Children ha ricordato che a essere insufficiente è anche la rete sanitaria territoriale. Mancano 1.400 pediatri. Un focus poi andrebbe posto sulla salute mentale di adolescenti e preadolescenti. Ad aver influito negativamente, peggiorando la situazione, è stata la pandemia. Secondo il monitoraggio, in nuove regioni italiane i ricoveri per patologie neuropsichiatriche infantili sono cresciuti del 39,5% in due anni. La dimensione del fenomeno dei bambini in povertà assoluta è significativa per noi e diventa una priorità su cui investire e prestare attenzione, dichiara Claudio Tesauro, presidente di Save the Children. E adesso parliamo del bonus assistente familiare, stanza al comune entro il 14 dicembre. Avviso riguardante i cittadini residenti a Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina, Villarmosa e Sommatino. Scade il 14 dicembre 2022 il termine di presentazione per il bonus caregiver. La regione siciliana ha il distretto di 8, che comprende Caltanissetta, Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina, Villarmosa e Sommatino ha destinato 66.377 euro per i caregiver, ovvero gli assistenti familiari dei disabili gravi e 35.741 euro per i caregiver familiari dei disabili gravissimi. Per la presentazione delle istanze per il bonus un attantum in riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020 possono presentare istanze di accesso al beneficio i caregiver dei disabili gravi e gravissimi residenti nel territorio del distretto sociosanitario 8. L'istanza e gli allegati sono disponibili sul sito del comune e dovranno essere presentati al comune di residenza del disabile entro e non oltre il 14 dicembre 2022. Nell'istanza dovrà essere indicato l'anno o gli anni per cui è richiesto il contributo. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza per ciascun anno di riferimento non sarà possibile ammettere le richieste di più caregiver della stessa persona affetta dalla disabilità. I casi poi saranno valutati dalla commissione di valutazione delle istanze che sarà nominata dopo la scadenza dell'avviso e che attiverà la procedura di soccorso istruttorio. E adesso andiamo ad una precisazione in merito al bando sulla vendita delle scuole rurali del comune di Caltanissetta. Il 2 novembre 2022 è apparso all'albopretorio un avviso in cui viene precisato che il fabbricato di contrada a gesso lungo inserito nel bando pubblicato il 28 10 2022 per la vendita di scuole rurali si legge è stato incluso nell'elenco per mero errore. Regione siciliana, i 12 assessori della giunta, il presidente Renato Schifani ha firmato il decreto di nomina. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha firmato ieri pomeriggio il decreto di nomina dei 12 assessori della giunta regionale. Questa mattina è avvenuta la presentazione a Palazzo d'Orleans dove il presidente Schifani ha firmato il decreto di nomina dei nuovi assessori davanti all'Assemblea regionale siciliana. Ecco l'elenco completo con le relative deleghe. Luca Sanmartino, catanese, 37 anni, assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Edmondo Tamayo, palermitano, 46 anni, assessore alle attività produttive. Andrea Messina, catanese, 57 anni, assessore alle autonomie locali e funzione pubblica. Elvira Amata, messinese, 53 anni, assessore ai beni culturali e all'identità siciliana. Marco Falcone, catanese, 51 anni, assessore all'economia. Roberto Di Mauro, agrigentino, 66 anni, assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità. Nuccia Albano, palermitana, 72 anni, assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro. Alessandro Arricò, palermitano, 46 anni, assessore alle infrastrutture e mobilità. Mimmo Turano, trapanese, 57 anni, assessore all'istruzione e formazione professionale. Giovanna Vodo, nissena, 67 anni, assessore alla salute. Elena Pagana, ennese, 31 anni, assessore al territorio ed ambiente. Francesco Paolo Scarpinato, palermitano, 49 anni, assessore al turismo, sport e spettacolo. Le funzioni di vicepresidente sono state attribuite all'assessore San Martino. L'assessore Falcone è stato invece delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del Dipartimento regionale della programmazione. Finalmente si è conclusa questa fase abbastanza lunga, non dovuta a me, ma alle lungaggini procedurali per i condeggi degli eletti. È perché la legge prevedeva il giuramento davanti all'assemblea e ho dovuto aspettare, ha detto Renato Schifani. Da oggi si parte, ci aspettano appuntamenti di grandissima urgenza ed emergenza. Abbiamo un'agenda molto fitta. I ragazzi dell'Anfa Sollus hanno fatto visita in questura. L'Anfa Sollus è un'associazione di famiglie e di persone con disabilità che persegue finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili a favore delle persone svantaggiate. Gli ospiti sono stati accolti dal commissario capo Lorena Latino, dirigente della sezione volanti, e dal sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio comunicazione, che hanno spiegato ai ragazzi quale attività svolgono quotidianamente gli agenti della questura di Caltanissetta al fine di garantire un efficace controllo del territorio. Tra le finalità della visita, anche quella di effettuare qualche scatto fotografico con gli agenti da inserire nel calendario 2023 dell'Anfas, dal titolo I supereroi dei giorni nostri. Al termine della visita, i ragazzi sono stati donati degli zenetti della Polizia di Stato per ricordare questo particolare momento di incontro, solidarietà e amicizia. E adesso parliamo di sanità. Il Niseno Provinzano, nel direttivo regionale del Nursing CGS Sicilia, il sindacato delle professioni infermieristiche. Sanità, Giuseppe Provinzano, eletto nel direttivo del sindacato delle professioni infermieristiche, Nursing CGS, nel ruolo di segretario amministrativo. Salvo Calamia, riconfermato all'unanimità come segretario regionale, mentre il vice segretario sarà Alfredo Guerriero e Paolo Consiglio, ricoprirà il ruolo di responsabile della formazione regionale. Il sindacato della Sanità Nursing CGS, oltre alle cariche elettive, ha deciso di dichiarare guerra al lavoro usurante ed è per questo che ha formato una task force a livello regionale che raccoglierà le tante segnalazioni che su casi di sovraccarico di lavoro e gravi disagi serviranno a provare, a tutelare gli operatori sanitari esposti a rischio di errori. Questo è stato uno dei punti approvati all'ordine del giorno dal sindacato che si è riunito ad Agrigento per rinnovare i vertici regionali. Inoltre hanno sottolineato nella nota diffusa che le segreterie territoriali hanno anche concordato di proporre subito al nuovo assessore alla sanità l'attuazione dei criteri delle linee guida da fornire a tutte le aziende sanitarie per il reclutamento attraverso procedura di stabilizzazione del personale Covid che ne ha diritto per legge. Ulteriore tema che sarà affrontato da Nursing è quello sottoposto al sindacato e al governo regionale ovvero il pagamento del bonus Covid 1000 euro per ogni mese di effettiva presenza durante la prima emergenza pandemica del 2020. In agenda anche la battaglia sul tema delle assunzioni per cui il NURSIND CGS lavorerà per sbloccare concorsi e le mobilità in stallo. Dice Giuseppe Provinzano quando si apre una nuova fase di relazioni sindacali con la firma del contratto collettivo nazionale del lavoro avremo la possibilità di essere presenti in tutti i tavoli in tutte quelle realtà ospedaliere portando proposte migliorative delle condizioni economiche e lavorative. Domenica 20 novembre nuovo appuntamento nell'ambito di scoprire e riscoprire Caltanissetta a cura del Cral Giustizia Caltanissetta programmata una visita guidata al quartiere San Rocco nel centro storico inizieremo andando nella chiesina per l'adorazione perpetua Maria Santissima della Misericordia fanno sapere i promotori dell'iniziativa e successivamente vedremo angoli caratteristici e pittoreschi del quartiere Stratafoglia, Mercato Vecchio e altri luoghi Tutti possono partecipare gratuitamente sottolinea una nota il presidente del Cral Giustizia Nisseno Carozzo Rocchipinti l'appuntamento è alle 10 di domenica dinanzi la chiesa di Santa Lucia Cambiamo ancora una volta argomento Agricoltura Regione pubblicata alla graduatoria per le filiere corte ai mercati locali nell'ambito del programma di sviluppo rurale La regione siciliana ha stanziato un sostegno economico in questo momento di crisi alle filiere corte ai mercati di nicchia per la valorizzazione dei prodotti identitari del territorio E' stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle domande ammissibili per ottenere il sostegno economico alla cooperazione di filiere orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Sono 18 le aziende agricole fra associazioni, cooperative e consorsi delle varie province siciliane ad essere state ammesse ai contributi stanziati con il bando che ha previsto una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro Scopo dell'avviso relativo alla sottomisura 16.4 filiere corte e mercati locali del programma di sviluppo rurale della regione siciliana in linea con la strategia Farm to Fork dal produttore al consumatore definita dalla Commissione Europea è quello di creare e sviluppare filiere corte e mercati locali e sostenere le attività promozionali a raggio locale L'obiettivo è inoltre quello di sostenere la creazione di canali di mercato nazionali e internazionali per prodotti di nicchia ridurre il numero dei soggetti intermediari e infine favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali creando opportunità di lavoro per gli operatori locali Con l'attuazione di questa misura la regione Sicilia vorrebbe muoversi su due binari paralleli uno cercherebbe di correre sul senso di fiducia e di appartenenza al territorio da parte dei consumatori e l'altro sulla promozione di una filiera produttiva fortemente identitaria e intrisa di storia, cultura ed emozioni Andiamo ad un nuovo appuntamento di Pedipedi questa sera andrà in onda dopo l'edizione del telegiornale alle 21 sempre su TFN Questa sera alle ore 21 su TFN nuovo appuntamento con Pedipedi vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda Amici di Pedipedi, ciao! Allora, oggi andiamo ad incontrare uno sportivo, ok? Quindi vediamo siamo in orario Gianlu penso di sì Allora, intanto ricordiamo che alla camera numero uno c'è l'inossidabile e l'insastitribile Gianluca ecco, ve lo faccio vedere Alla cameretta, come dico io però, giusto per fare qualche ripresa ci sono io e Roberto che vi porterò a conoscere le storie i personaggi e i luoghi della nostra città Allora, andiamo a bussare vediamo se siamo in orario Permesso? Entriamo Oh, buongiorno! Lo avete riconosciuto? Allora, io entro Buongiorno Buongiorno, tutto a posto Buongiorno, buongiorno Mirko Scarantino Allora, prima Allora, un attimino Mirko dobbiamo intanto microfonarti perché noi siamo così siamo praticamente Subito Sì, 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 sì No, manca il tempo di Esufa No, perché sennò poi non si sente niente e ci prendono a male parole Dicono, ah, sai, non si sentiva Allora, questo lo puoi mettere in tasca La ringrazio Ecco, adesso siamo a posto Allora, mi metto da questa parte come vedete noi siamo proprio una live action Ah, proprio così tutto sul momento Neanche le scarpe ancora mi ero messe già subito Ma lo dobbiamo rifare questa cosa? Allora, alle 11 e mezzo io mi stavo preparando Ma là siamo in anticipo Gianlu, ma che mi dici che siamo in orario? Siamo in anticipo Vabbè Come ho detto io Chissà, è questa Che ci possiamo fare Passiamo allo sport Nissa parla il nuovo attaccante Faramarna È arrivato il primo colpo autunnale di mercato della Nissa Si chiama Faramarna di nazionalità portoghese ma nato in Guinea Dopo aver superato la concorrenza del Napoli United allenato da Diego Armando Maradona Junior e di alcune società di Serie D il direttore tecnico biancoscudato Antonio Emma ha perfezionato l'ingaggio della prima punta portoghese classe 99 proveniente dallo Zurich City Fisico possente e abbinato anche ad un'eccellente tecnica Faramarna comincia a giocare a calcio all'età di 17 anni con una squadra giovanile parigina nel 2017 Cinque mesi dopo il passaggio al Paris squadra che milita nella Serie B francese poi un'altra importante esperienza con il Saint-Geneveve e in ultimo l'esperienza con la squadra B del Monaco in cui ha militato per ben tre stagioni La scelta è arrivata dopo un periodo di prova nel corso del quale l'attaccante ha dimostrato grandi qualità Marna è rimasto colpito dal progetto Nissa e dalla bellezza dello stadio Tomaselli che sarà a breve la casa dei biancoscudati ma anche dal calore dei tifosi Già domenica in occasione della trasferta di Miss Ilmeri sarà a disposizione del tecnico Alessio Sferrazza Sono molto contento di essere arrivato qui alla Nissa la scelta è arrivata dopo che il mio agente mi ha convinto nel sposare questo progetto di cui mi sono innamorato soprattutto del nuovo stadio e soprattutto del calore dei tifosi E ancora a calcio Ernesto Torregrossa in gol con la maglia della nazionale venezuelana È stata soltanto un amichevole internazionale prima dei mondiali di calcio quella tra Venezuela e Panama ma che ha regalato tante emozioni ad Ernesto Torregrossa Esordio con gol quella del bomber nisseno del Pisa che è entrato a partita in corso ha trovato il pareggio al 93esimo per la Sele Vino Tinto Partito dalla panchina nel primo tempo ha visto la sua nazionale andare in sbandaggio ma nella ripresa il CT Peckerman ha deciso di buttarlo in gambo e farlo esordire Al 79esimo il raddoppio del Panama sembra spezzare le ali al Venezuela ma prima un rigore trasformato da Rondon riapre uno spiraglio e poi nei minuti di recupero a fondo di Savarino sulla sinistra che mette in aria un grosso basso dove l'attaccante del Pisa si avvenda prima di tutti e si regala un'emozione indescrivibile per il suo primo gol in campo internazionale che neanche il giallo per essersi tolto la maglia lo ha scalfito Bene, anche per oggi dunque è tutto non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nella prossima edizione del telegiornale adesso vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di giovedì la perturbazione che nelle ultime ore è transitata sul nostro paese si allontana verso la Grecia favorendo quindi una breve tregua anche se sul finire del giorno un altro peggioramento giungerà sulle regioni del nord favorendo quindi un venerdì poi di mal tempo ancora su molte nostre regioni vediamo la mappa della nuvolosità che ci mostra come nell'arco della giornata transiteranno degli annuvolamenti ma il contesto sarà asciutto su molte nostre regioni infatti osservando anche lo zoom delle precipitazioni notiamo come qualche fenomeno residuo insisterà tra la Calabria e la Sicilia comunque miglioramento mentre nuove piogge poi si avvicineranno a fine giornata sul nord Italia vediamo quindi il tempo previsto nella giornata di giovedì sul nostro paese avremo un contesto nel complesso più asciutto e soleggiato su molte nostre regioni l'instabilità di cui parlavo prima tra Sicilia e Calabria ma con tempo che andrà migliorando al nord ci saranno nebbie e nuvole basse con la tendenza poi verso sera nuovo peggioramento sul Levante Ligure e l'Alta Toscana e piogge che poi si estenderanno anche sul nord Italia dalla serata ma per maggiori dettagli consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno Del Corso Corso Vittorio Emanuele Corso Vittorio Emanuele